Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele, bentornati sul canale di progetto. Quest'oggi ragazzi andremo a vedere come utilizzare un modulo RTC con Arduino. Un real time clock ci permette di tenere salvato all'interno di questo modulo il tempo e la data. Questo modulo è veramente molto interessante perché al suo interno possiede un DS1307. La peculiarità è che tiene monitorato anche l'anno bisestile. Come fa a tenere salvata la data? In particolare possiede al suo interno una NV RAM. NV RAM sta per Non Volatile RAM, quindi in sostanza una RAM non volatile, sulla quale verrà scritto l'orario attuale, tramite la batteria questa RAM non si scaricherà mai e dunque terrà sempre aggiornato e monitorato l'orario all'interno di questa NV RAM, che poi noi tramite Arduino andremo a leggere per andare a reperire l'orario. Questa NV RAM è da 56 byte, questo modulo è interessante perché riesce a funzionare da meno 40 gradi fino a 85 gradi, quindi potete metterlo anche in ambienti abbastanza caldi o freddi ed è interessante soprattutto perché consuma meno di 500 nanoampere. Quindi sì, con una batteria del genere è in grado di durare appunto molti anni senza potersi scaricare. Inoltre possiede un cristallo da circa 32 kHz al suo interno per poter funzionare ed infine comunica tramite Arduino con interfaccia seriale. E ora andiamo a vedere bene come è fatto il modulo. Come potete vedere questo modulo è uno di quelli che ci è stato fornito nel kit di Elego. La qualità è veramente impressionante. Al di sopra potete notare che ci sono 5 pin per potersi collegare con Arduino. Naturalmente i più banali sono VCC e Ground. L'alimentazione verrà collegata ai 5 volt e il GND al GND di Arduino naturalmente. Successivamente SDA e SCL li andremo a collegare rispettivamente ai pin A4 e A5 di Arduino. Questo vale sia per Arduino Uno sia per Arduino Nano. L'ultimo pin io non l'ho utilizzato. E quindi ragazzi se trovate interessante il video lasciateci un like e noi adesso andiamo a vedere come fare i collegamenti con Arduino. Quindi innanzitutto procuriamoci un Arduino. In questo caso io sto utilizzando un Arduino Nano come potete vedere. Vado a prendere due cavi, uno rosso e uno un pochino più scuro, per andare a collegare i 5 volt e il GND. In particolare i 5 volt si trovano su questo lato e a partire dal fondo sono il quarto pin. Quindi lì andiamo a collegare, mentre il GND è il secondo pin a partire dal fondo. Una volta collegati VCC e GND andiamo a cercare i pin A4 e A5 che si trovano più o meno in questa posizione. La stessa cosa vale per Arduino. Quindi andiamo a collegare il cavo verde ad A4 che si trova in questo pin e il cavo bianco ad A5 nel pin successivo. In Arduino Nano vi troverete con una configurazione del genere. Prendiamo ora il nostro modulo RTC, andiamo a collegare il GND che si trova in questo pin, come potete vedere. Successivamente andiamo a collegare l'alimentazione che si trova nel pin successivo. Vi ricordo che SDA va collegato sul pin 4, quindi cavo verde, e SCL sul pin 5, quindi cavo bianco. Una volta terminati i collegamenti vi troverete con una configurazione del genere. In questo caso non c'è più nulla da aggiungere, quindi possiamo collegare il nostro Arduino Nano al computer e andare a vedere come si fa a scrivere il codice per andare a leggere e eventualmente reimpostare l'orario e la data. Prima di poter cominciare dobbiamo installare la libreria RTC, quindi andiamo in Sketch, Includi libreria, Gestione librerie, scriviamo RTC, ora vi mostro quella che ho installato io. Ne ho installate due, però quella che funziona meglio è questa, RTC di Manunat CV. Installate la versione 1.0.1, poi chiudete e potete già utilizzarla. Ed eccoci dunque all'interno del nostro sketch di Arduino per andare a reimpostare l'orario. Innanzitutto dobbiamo includere Wire e RTC per poter comunicare ed utilizzare il modulo. Andiamo a distanziare un oggetto DS1307RTC con Static, Static potete anche non metterlo. Andiamo a definire una macro tempo e una macro data. Qui trovate l'ora, i minuti e i secondi. Qui trovate il giorno, il mese e l'anno. Successivamente possiamo impostare il giorno della settimana. Uno corrisponde a domenica, lunedì è uguale a due, eccetera eccetera. Ve li ho scritti qui per comodità. Naturalmente troverete lo sketch sul nostro profilo GitHub. Nel Voice Setup andiamo ad impostare la comunicazione seriale a 9600 Baud. E poi scriviamo RTC.begin per inizializzare il nostro oggetto. Scriviamo Serial, Printline, Imposto il Tempo. Con RTC.setHourMode potete impostare il clock a 24 ore oppure 12 ore in stile americano. Con RTC.setWeek andiamo ad impostare il giorno della settimana, quindi questo. Con RTC.setDate andiamo ad impostare la data, quindi questa. Ed infine SetTime ci permette di impostare il tempo. Una Printline che ci dice che tutto è andato a buon fine e facciamo ripartire poi il clock. Qui semplicemente andiamo a leggere l'orario, quindi verifica del tempo. Per prendere il giorno bisogna scrivere GetDay, Mese, GetMonth, Anno, GetYear. Successivamente prendiamo le ore con il GetHours, i minuti con il GetMinutes e i secondi con GetSeconds. Questi sono tutti dei metodi della classe RTC, in particolare dei Getter, che ci forniscono tutti questi dati. Per verificare se l'RTC è a 24 ore o a 12 ore, possiamo scrivere RTC.getHourMode, utilizzare questo Getter e verificare che sia uguale a clock12h. Se questo è vero, allora per verificare se siamo nell'antimeridiano o nel pomeridiano, usiamo SwitchRTCGetMeridiem, CaseHourAM, printiamo AM. Altrimenti HourPM, printiamo PM. Mettiamo un Printline per pulire un pochino l'output e impostiamo un delay a 1000. Se noi andiamo a caricare il nostro sketch, naturalmente prima bisogna impostare la porta, andiamo a caricare, vi faccio vedere l'orario, 11.23, vedete che è impostato le 11.23. Ora vado a modificare perché sono le 11.46, come vedete, scrivo 46 qui, che sono i minuti, carico i dati, andiamo a verificare e di fatti ora si è impostato le 11.46. Per quanto riguarda ora la visualizzazione, ho scritto un altro sketch, ma in sostanza le funzioni fondamentali le abbiamo già viste. In ogni caso ve lo mostro molto velocemente. Includiamo sempre WireRTC, istanziamo l'oggetto DS1307. Nel VoidSetup andiamo a impostare la comunicazione seriale e andiamo a inizializzare l'oggetto RTC. Successivamente verifichiamo se sta funzionando il modulo. Questo lo si può fare con RTC is running. Nel caso ci fornisca un valore vero, allora il modulo funziona. Altrimenti potrebbe non funzionare perché l'orario può darsi che sia sbagliato. Con questo RTC get hour mode possiamo verificare se è uguale a clock 24. In caso positivo abbiamo il clock in 24 ore, altrimenti in 12 ore. Controlliamo se è abilitato il pin di out, qui ci fornisce 1 se è abilitato, 0 se non è abilitato. E controlliamo l'abilitazione del pin SQV, quindi 1 se è abilitato, 0 se non è abilitato. Andando ora nel VoidLoop con RTC.getWeek potete verificare se è lunedì, martedì, mercoledì, eccetera eccetera. Se vi ricordate partiva da domenica uguale a 1, quindi case 1 domenica, poi dopo lunedì, martedì, mercoledì, eccetera eccetera. E successivamente come prima get day, get month, get year e poi get hours, get minutes e get seconds. Nel caso in cui abbiamo l'orologio a 12 ore, mettiamo AM o PM, impostiamo un delay, una print line per pulire un pochino l'output. Andiamo a caricare quindi questo sketch, come prima dobbiamo andare a reimpostare la nostra porta, carichiamo lo sketch. E quindi notate che il modulo funziona, modalità orario 24 ore, il pin out e SQE non sono abilitati e ora ci sta fornendo 11.04.2021. Vedete che l'orario è quello che ho aggiornato prima, quindi 11.48.45. Ora, c'è stata una piccola discrepanza perché sull'orologio attuale qui di Windows non vediamo l'orario, però possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto. Quindi ragazzi avete visto che il modulo RTC è un modulo veramente molto interessante. Potete utilizzarlo ad esempio nella creazione di un orologio, naturalmente, ma anche ad esempio nella creazione di un orto domotico. Quindi per evitare di innaffiare ad orari in cui il sole è alto, luminoso, caloroso, che potrebbe andare a danneggiare le piante, potete utilizzare un modulo RTC per dire all'orto domotico di innaffiare alla mattina presto oppure alla sera tardi. Il modulo RTC trova tante applicazioni, naturalmente, scrivetemi qui nei commenti le vostre idee, se vi è piaciuto questo video lasciateci un like, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale per supportarci e per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda le prossime uscite, attivate la campanellina e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Ciao!